a fine degli anni 80 un tour di madonna ha cambiato per sempre la consapevolezza degli attivisti lgbt strike a pose il tour all'epoca fu etichettato come molto scandaloso ma nessuno poteva immaginare quello che il documentario presentato qui oggi al biografilm in realtà racconta ovvero che i sette ballerini che furono scelti per accompagnare madonna in seguito sono tutti quanti diventati probabilmente non a caso degli attivisti per i diritti sai che durante il tournée non ho reso conto di niente che questo tournée avrebbe un successo un'importanza così un messaggio così importante abbiamo fatto solo il nostro lavoro e la cosa diversa in quel lavoro lì è stato che noi siamo stati proprio liberi di essere noi stessi sessualmente pubblicamente come apparenza come ci vestiamo completamente libero e quello è rimasto un messaggio progressivo è che puoi essere gay e umano io voglio essere come questi ragazzi essere così liberi e aperti ho visto i due uomini kiss per la prima volta come no quando lavori con un stella di pop così alto c'è sempre i fans fanatici pazzeschi e io mi so in tutti questi anni ho sentito questi messaggi da loro ha cambiato la mia vita mi ha dato la stessa speranza così sembrava sempre messaggi dai fanatici capito fino quest'anno dove all'improvviso CNN New York Times People Magazine Vogue Italia e Rolling Stone dicono che siete iconici avete cambiato il mondo ma prima ho pensato proprio fanatici adesso ho detto ma fino adesso ho reso conto che forse avevamo abbiamo fatto proprio un bel effetto bring it back down what's your secret faking that you're strong faking that you are confident faking almost all of it with AIDS coming out and HIV everyone got really scared it was terrifying it was terrifying enough to scare people into silence è difficile bilanciare sette storie in un film così piccolo con noi personaggi così grandi così vite proprio lunghe pieno di cose di roba di vita allora è rimasta con me la sensazione che c'è più da dire e a tutte queste interviste c'è l'opportunità di dire di più è un'unica there was a whole other backstage you know that you didn't get to see that none of us were ready to talk about and it's hard because this is the first time so Be proud, you know, be proud, whatever it is, because everyone is someone. For more information, visit www.fema.org